Fischia al vento, urla la buffera, scarpe rotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire. Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare oggi un film che avrà come argomento la resistenza nei due almeno San Salvatore e San Bartolomeo. Perché ho deciso di fare questo? Per una dovere di gratitudine verso il mio amico partigiano che è morto tre anni fa, ormai quattro anni fa, che era don Andrea Gallo. Ho deciso di fare questo video. Da ottobre del 1922 il fascismo sale al potere. Come viene accorto questo nei nostri due paesi di almeno San Salvatore e San Bartolomeo? Cosa fa il regime fascista dei nostri due comuni diciamo dal 1922 fino all'entrata in guerra? Da quello che so i paesi, i nostri paesi, sono stati quasi sempre estranei alle vicende nazionali. Perché? Dobbiamo immaginare che nel 1922 non c'era neanche la radio. Perché la radio nasce nel 1924 e poi ci vogliono anni e anni e anni perché diventasse un bene comune. Come mai dico che erano estranei? Perché i giornali quando arrivavano, allora c'era l'Eco di Bergamo e l'Eco di Bergamo di che cosa parlava? Parlava, trasmetteva le notizie che riceveva da Roma. Dunque il giornale arrivava dal menno San Salvatore al menno San Bartolomeo e chi lo leggeva? Il Sindaco perché ancora non c'era il Podestà che verrà dopo. Lo leggeva il farmacista, lo leggeva il parroco, lo leggeva il medico, erano poche persone insomma. Quelli che in genere avevano un telefono. Anche perché non arrivava neanche nelle trattorie, nelle osterie che c'erano una volta. La nostra gente era impegnata nel guadagnare la vita. Quindi all'inizio conobbero il fascismo, il fascismo del manganello perché fu imposto dall'atto. Dopo nacquero la casa del fascismo, ad almeno San Salvatore e almeno San Bartolomeo che c'è ancora. E quindi nel 22, in quegli anni successivi lì, la nostra gente era impegnata a mandare avanti la famiglia. Mi ricordo che allora la maggioranza erano quasi tutti i contadini. Almeno San Salvatore voleva dire l'almeno alto, come dicevamo noi i bambini, e lo stesso almeno San Bartolomeo. Cioè tutto arroccato in almeno alto e almeno San Bartolomeo. Tanto è vero che tanti chiedono come mai il cemitero di Almeno San Salvatore è al centro del paese. Perché è stato fatto lì nel 34, perché era la periferia nel 1934. Era la periferia. Quindi il paese era questo e finiva verso la via del rosso. Dopo lì era tutta pianura. Se voi guardate ci sono ancora delle fotografie dall'alto che fanno vedere la famosa Madonna, Cimeer eccetera eccetera. Erano tutte K, no? C'era Caruelli, Camelone, Carmisa, Cimeer, Capodrigo, tutte le famose K che vuol dire Masserizia. Sì sì. E quindi il fascismo poi entrò anche nei nostri comuni ma anche in posto. Erano, come dicevi, paesi che era attorno alla parrocchia. Io mi ricordo anch'io che da ragazzo invece ci metterò lì attorno a tutti i campi. Cioè tra qui San Salvatore e la parrocchia che era il centro. Perché c'era la lettatura, le carceri, il parrocchino era il ducario, la ricaria eccetera eccetera. Però dalla parrocchia in fondo alla salita dal dorso in giù da tutti i campi con le K. Forse mi ricordo che poi è stata costruita le costruzioni eccetera eccetera qui insieme. Io volevo aggiungere questo sulle domande che hai fatto tu. Parlando con Coti Battista, un battigiano, non un battigiano piccolo che è ancora vivo. Lui mi diceva che il fascismo via dal meno. Era un fascismo buono. Perché? Perché lui parlava degli anni durante la guerra. Perché? Perché i capi sapevano dei partigiani però stavano zitti per risparmiare le famiglie eccetera. Se non venivano i tedeschi o i fascisti quelli di Bergamo eccetera. Durante questi anni il fascismo nei due paesi, a parte la casa del fascismo, si è connaturato per la creazione di altre opere, strade, case o cose del genere? Sì. Dunque. Prima di tutto durante il fascismo nacque la figura del Podestà. Chi era il Podestà del governo? Era Burtinoni. Ah perché quello della via Burtinoni. Quella di via Burtinoni. Gaetano Burtinoni che se non sbaglio era un magistrato o qualche cosa. Era possidente. Io voglio spendere due parole. Dunque. Podestà dei due almeno. Quindi quando noi facevamo parte della riunificazione dei due almeno. C'è già stata la riunificazione dei due almeno. Una è stata fatta da Napoleone Bonaparte. La riforma amministrativa di Napoleone era stata a 1801. Quello durò due o tre anni dopo. Non so che fino abbia fatto. Ma la seconda riunificazione degli almeno è venuta durante il fascismo. Perché lui era Podestà dei due almeno. Due parole su Burtinoni che nel 34 fonda la sagra. Loro si chiamava la sagra degli uccelli nel 1934. E qui la ricerca è stata fatta dal professor Paolo Manzoni. Che con i proventi della sagra degli uccelli. Burtinoni che cosa fa? Riesce a iniziare la strada per la roncola. dal 35 che finirà nel 41. Era uno sterrato. C'era giù la ghiaia del quarzo. Non erano asfaltate. E lui fece anche una cosa abbastanza buona. Perché prese come operai i disoccupati di San Bartolomeo e San Salvatore. Durante il fascismo Terile Duce non esistevano in Italia dei disoccupati. E il buon Gaetano Purtinoni cosa fece? Prese questi disoccupati e li mise a lavorare in questa strada. Perché allora non esistono foto che ci siano delle macchine scavatrici. Esistono delle foto che c'erano nei Gran Cabri. Quindi questi lavoratori lavoravano piccone e vanile. Venivano pagati a mezzogiorno con una pasta. Pasta al suo, data a tutti. E alla sera pagati tutti i giorni con alcuni soldi. E veniva loro dato, ma adesso non mi viene in mente perché devo guardare nelle ricerche, venivano chiamati soprannominati con un soprannome apposito che adesso non lo so. Comunque la strada per la Roncola pare che questo Purtinoni avesse delle proprietà in Roncola. Ah, ecco perché. Certo, se no sarebbe un benemerito. C'era un benemerito a metà. Comunque era isolata la Roncola. Nel senso che c'erano ancora le famose scalinette che uno che va in Roncola può fare anche adesso. Cioè, però, quando dovevano scendere, le mucche dovevano scendere da quelle che noi fattivano. Quando si può dire che in almeno San Salvatore inizia il seme della Resistenza? C'è una data specifica e un momento in cui si può dire nasca un embrione di Resistenza? L'8 settembre del 43. L'8 settembre del 43. Cosa succede l'8 settembre del 43? L'armistizio. L'armistizio. I soldati che rimangono senza ordine. Perché il nove, il re era partito a Brindisi. Allora questi soldati ritornano aonia. Quelli che riescono per esempio. perché quelli di Cefalonia rimangono giù là, ma tutti gli altri riescono a scappare a casa. A scappare a casa cosa succede? Lì hanno un mesetto di non sanno cosa fare, il 13 di ottobre è il giorno in cui l'Italia dichiara guerra alla Germania e il partito fascista di Salò ha già vigore e manda il bando per chiamare tutti i soldati che siano scappati da casa, allora lì c'è il dramma di dire ritorno, vado con Mussolini oppure no, tanti hanno risposto e sono andati nella Repubblica di Salò, gli altri sono andati, hanno cominciato a riunirsi tra di loro, qui almeno a San Salvatore, si riunivano giù in casa, non come c'è scritto da tante parti, nella casa di Capelli Battista che era in via Oppoli Sottra, oggi sarebbe davanti ai merletti fiori, dove abitava Capelli Battista e lui dice che si riunivano lì, non si riunivano lì, si riunivano invece in casa dell'altro partigiano che per tanti è sconosciuto che è il Gritti, quello abitava a 100 metri in Oppoli Sotto e lui quelli lì li aveva riuniti e però li aveva riuniti, però era venuto da Villa Dalmè un certo, non mi ricordo, che disse guardate che c'è un prete a Villa Dalmè che sta riunendo delle persone che non vuole andare né a Salò ma vuole combattere i tedeschi e quindi anche i fascisti. Alcuni era un prete in alto in sostanza? Loro non sapevano assolutamente che era un prete, c'era una figura Dalmè che poi si scoprì dopo parecchio tempo, forse anche un anno, che era il famoso Dany, don Antonio Guilesi curato di Villa Dalmè. L'unico che sapeva di questi almenesi di cui io posso fare il nome, c'era dentro Capelli Battista che si è riunito dopo al Gritti, lui dice no li ho portati io, perché dopo la guerra uno la racconta come vuole, però ci sono le carte che parlano, no? E anche perché questo Gritti ha lasciato una memoria di lui raccolta veramente con una storia che fa a pugni con quello che ha scritto Capelli Battista. Era l'unico questo Gritti comunque che riuscì ad andare, entrò nel gruppo Dany. Non erano ancora le Fiamme Verdi perché le Fiamme Verdi vive all'anno dopo un anno. Solo quei due lì di Almenno entravano? No, no, erano tanti qui di Almenno. I nomi è Capelli Battista, Angelo Gritti, Bonaledi e tra te Achille e Virginia, quelli che è morto. I due scambia. I due scambia e il cognato altro scambio. E il manno a San Bartolomeo invece come si connota la cosa? San Bartolomeo, bisogna dire che già dal 1929 c'era il curato che è il famoso Don Antonio Saghezzi, era curato, almeno San Bartolomeo, dal 1929 al 1932. Questo curato, che era un buon canale, era la seriana, aveva già capito che il fascismo non era morto. E lui, no, mentre leggeva un libro, lo dice lui nei suoi diari, un libro di Mussolini, lui come prete ha detto, questo qui è un avvio. E lui da allora, al 1929, è sempre stato contro il fascismo anche per questo fatto dell'interno. Tant'è vero che quando, dopo l'8 settembre del 1943, lui, Saghezzi, non era più a Danone San Bartolomeo, ma era a Bergamo come direttore dei Gioni di Angeli della Cattolica. Però è stato uno dei primi ad andare contro i tedeschi. Tanto è vero che aveva conosciuto un altro curato di Palazzago, che era Don Antonio Begnini, e insieme hanno cominciato ad aiutare questi giovani che, come diceva lui, piuttosto che essere arrollati nelle pubbliche di Salò, preferivano andare sulle montagne a combattere. Allora, lui, come prete, aiutava questi giovani, chiedeva i suoi giovani, perché lui era il presidente dell'azione cattolica di Bergamo, chiedeva i suoi giovani. E, assieme a questo Begnini, Don Begnini di Palazzago era molto più spinto, lui nascondeva le armi in chiesa, portava a casa le armi, dove le trovava, eccetera. Lui era molto più spinto. Tuttavia, furono presi, sia lui che Saghezzi, perché, ingenuamente, questo Don Begnini aveva lasciato un biglietto nel suo studio su cui c'erano i nomi con cui lui era in contatto. I fascisti sapevano che lui aiutava quelli che tornavano dalla guerra, i giovani, eccetera, eccetera. Aiutava persone che erano andate in montagna, anche tra i suoi giovani, per cui hanno trovato questo biglietto. e c'era il nome del Saghezzi. Allora l'ho preso, due Saghezzi, e, come erano anche morte all'inizio, poi spediti in Germania, il suo uso dopo, dove il Saghezzi è morto là da Cauda, nel 1945. E Begnini invece è riuscito a tornare. Quindi lì ad Almenno, proprio per la presenza di questo prezzo, che già nel 1929 c'era questa avversione, avversione verso alcuni, chiaro, i giovani, i giovani di Saghezzi contro il fascismo. Poi i partigiani praticamente iniziano dopo l'8 settembre, tra i quali c'era anche il dottore, il medico, diciamo, a tornare al dottor Di Nardo, che ho trovato, all'Istituto per la Resistenza di Bergamo, la sua scheda, come qualificato, come tenente partigiano. Però tra questi, come abbiamo discusso diverse volte tra voi e io, praticamente c'erano due denominazioni. I partigiani erano quelli che effettivamente hanno combattuto con le armi. Questi qui, come il dottor Di Nardo e altri che li aiutavano, erano chiamati patriotti. E quindi, praticamente, i primi partigiani, no, che troviamo, troviamo subito dopo l'8 settembre. C'è da ricordare lì a San Bartolomeo di un ragazzo, che allora ero un ragazzo, che si chiamava Rottini. Rottini mi pare il nome quella di Miro, aveva 3-4-10 anni. Questo ragazzo, quello faceva, portava i viveri partigiani, che erano su una prima settimana, dove erano? Sì, dove erano il di due. A Berendri, il di due. Sopra le due. Lui portava su di notte i viveri a questi partigiani che non sapevano anche lui da dove venivano. E quindi lì a Balmenno, San Bartolomeo, ricordiamo appunto diversi partigiani che hanno iniziato la loro attività, chiaro subito dopo l'8 settembre. quindi vi ha ricordato il dottor Di Marto, che lì nelle schede dell'Istituto per la Resistenza è ricordato come medico ufficiale della Resistenza. Però ecco, anche lui è qualificato come patriota. Poi troviamo la Brigata Albenza. La Brigata Albenza era qui di San Bartolomeo. Eh? Di San Bartolomeo. Però ecco, questi sono venuti non subito dopo. Allora mi fermo un attimo, ma c'è una considerazione mia da quello che mi avete detto. Lui mi ha parlato dei partigiani almeno San Salvatore, solo come esclusivamente ex militari. Non c'erano persone civili che hanno abbracciato questa, questa forma. Tu, Ermano, invece mai hai parlato di quelli di San Bartolomeo, dopo la partenza di Don Seghezzi, Don Benigni, come una specie di caniciolti. Non c'era un punto di riferimento specifico. Mentre per quelli di Almenno c'erano i sacerdoti di Villa D'Albenza. Un'altra domanda. Quelli di Almenno con riferimento ad Almenno San Bartolomeo si ampliano o rimangono solo gli ex militari? C'è qualcosa della società civile che diventa non patriota, ma proprio partigiano? La stessa cosa. Quelli di San Bartolomeo riescono a trovare un punto di riferimento, magari unendosi a quelli dell'Albenzo o rimangono separati? Riescono a fare unirsi e fare fonte unico o rimangono sparpagliati qua lì? No, non c'è. Nelle vostre ricerche noi sappiamo che quelli di Almenno San Salvatore vanno là. Ma poi naturalmente ci sono, e questo nelle ricerche lo abbiamo trovato, partigiani sparsi tra l'Italia e anche partigiani che erano in guerra e diventano partigiani. Per esempio in Grecia diventano partigiani. C'era per esempio uno di Almenno che era giù a Imperia che poi è stato fucilato e il partigiano era là. L'8 settembre li torna a casa. Entra con quelli di Salò. Vanno a combattere in Liguria e la sua compagnia riesce a respingere l'avanzata dagli americani. Dopo, dopo questo, la sua compagnia si dispa e lui che cosa fa? Gli altri scappano a casa. Lui nel tornare a casa va a Piacenza e diventa partigiano. E lì viene uccidato e lì abbiamo scoperto... Io vorrei però sottolineare una cosa molto importante che abbiamo scoperto ed è messo poche volte in evidenza. Che, se abbiamo visto, ci sono tre figure di preti. Cioè se non c'era Don Dami curato di Villa, le Fiamme Verdi non esistevano. Se non c'era Don Segrezzi e Don Bellini a Valzana, dove prego? Palazzago, Palazzago. Palazzago, io ho letto Palazzago. Ah no, Palazzago. Quindi ci sono delle figure, dei preti. Anche qui, almeno, qualcuno si è dato da fare. Ecco, era quello che volevo domandare io a te. Mi hai parlato di un prete di Villa, di un prete di San Bartolomeo e di un prete di Palazzago. Sappiamo tutti che la chiesa, almeno San Salvatore, è storicamente importante. Qui, almeno, com'è stata la posizione della chiesa? La posizione della chiesa c'era Don Chitò. Don Chitò ha sempre sostenuto i partigiani. Tanto è vero che quando, si vedrà più avanti, quando le Fiamme Verdi, i partigiani delle Fiamme Verdi non erano partigiani d'attacco. Erano quelli sulla difensiva. Che cosa voleva dire? Che erano addetti a mantenere un territorio ed erano esperti nei saboggiottaggi e non ruvare le armi dei fascisti. Visto che siamo arrivati a questo punto, ti chiedo sia a te che a lui, come si formano le Fiamme Verdi e come si forma la Brigata San Bartolomeo, uno e l'altro. Dunque, le Fiamme Verdi nascono il 29 giugno 1944. Perché dall'8 settembre del 43 al 29 giugno del 44 non esistono le Fiamme Verdi. Non esistono. esistono movimenti sparsi. C'è il gruppo Dami. Il gruppo Dami. Però quelli di Annemno erano candisciotti. Cioè nel senso che erano con quelli la. Però esisteva già la Brigata Galivaldina. Quella dei comunisti. Dami dice, io come comunisti non vado. E allora viene a sapere, cioè dice, c'erano comunisti, socialisti, partito d'azione. C'erano cinque o sei tipi di partiti e ognuno aveva la sua formazione. E lui dice, questi qui però sono tutti legati a un partito. No? Io non voglio un... quello dell'azione sarebbe stato quello della DC, per esempio. Ecco, io non voglio neanche quello. Però viene a sapere che un certo maggiore del Veneto aveva fondato le Fiamme Verdi. E allora lui si fa dare il programma, si fa dare tutte le cose che riguardano e lui decide di fondare le Fiamme Verdi di Villa d'Armello. Fiamme Verdi di Villa d'Armello che c'è scritto nel... proprio nel giuramento che fanno gli abdetti, cioè quelli che si sono aggregati, che non sono partiti, loro lavorano solo per l'Italia. Non sono né per i partiti, né per la Chiesa. Sono liberi completamente. Perché non deve essere così. Perché Fiamme Verdi? Perché quel maggiore lì che si chiamava Fiori... Era un mattino? No, era un mattino. Fiamme Verdi. Quindi hanno le mostrine verdi e nascono così. Ma loro le Fiamme Verdi, che poi abbiamo avuto... E quindi, anche se loro avevano il compito di sabotaggio e di recuperare armi, perché... A ritorno al... A ritorno ad Anchietò. Perché fu... quando questi avevano le armi, no? Le Fiamme Verdi di Almen, no? Che erano le Fiamme Verdi di Villa d'Armello... E cosa fanno? Le mettiamo dove queste armi? Vanno dal parroco a Giannis. Me lo dico io dove dovete metterle. In Gesquidore. No? San Giorgio, cimitero, nella cappella del... L'Operapia, c'è un altro campanile che ho trovato, lui non lo sa, nel campanile della Madonna del Castello. Capito? Perché c'è, come io non sono entrato, ma mi hanno detto, per andare solo sul campanile della Madonna, ci va solo la mascheretta, poi c'è uno stanzino. Quello stanzino lì avevano messo le armi. Ah. E invece a San Bartolomeo la Brigata Albenza? A San Bartolomeo. La Brigata Albenza nasce tardi, eh. Era verso la fine del 44. Ed è una Brigata che era unita con dei partigiani di Pertono. Perché? Perché quando, verso gli inizi del 45, quando in pratica i tedeschi cominciano a fuggire, perché ormai stavano arrivando i genericani, gli inglesi e i partigiani si stavano organizzando. Loro cosa hanno fatto? I partigiani di Cisana. Allora, parlo di questo perché nella nostra sezione Ampi, che alla sede qui era almeno però, è l'Ampi Vallimania, ha messo dentro, e noi dobbiamo interessarci anche di questo perché stiamo facendo un libro su presistenza in Vallimania, dobbiamo mettere anche questi tre paesi di questa zona perché anche loro fanno parte dell'Ampi di Vallimania, che hanno messo lì, non lo so perché. Perché? Perché forse perché gli altri, non so, le altre sedi, no? Sì, sì, va bene. E allora, cosa fanno questi partigiani di Cisana? Praticamente mettono un camion per attraverso per impedire questa fuga, no? I tedeschi. Cosa succede? Mettono il camion e si postano, no? E i tedeschi dicono, beh, probabilmente ci fermeranno più avanti, si arrendono, si arrendono. Allora, c'era lì un tenente che anche lui era della formazione brigata dal Benza però a Bergamo. A Bergamo. Dopo cosa succede? Succede che arrivano i fascisti dietro i tedeschi e quelli cominciano a sparare e ammazzano diverse persone, perché sia quelli che stavano vedendo, sia gli altri, no? Che li avevano fermati, no? Che così riescono a passare, no? A superare questo blocco che poi, ok, dopo saranno fermati più avanti, no? Eccetera, eccetera, come i capitani hanno più subito. Quindi questa brigata al Benza nasce appena prima, no? In questo periodo ed era formata, no? Da partigiani di almeno, insomma, di San Bartolomeo. Allora, come dicevi tu, questi partigiani di San Bartolomeo erano un po' dei cani sciotti, tranne la brigata a Benza, no? Che erano 7-8 persone, che erano unite e che avevano partecipato anche alla sfilata, no? A Bergamo nell'aprile, no? Il 45, poi i tossici partigiani, eccetera. Gli altri erano un po' dei cani sciotti. Per esempio, Locatelli Mario, che è uno dei più importanti di San Bartolomeo, era capo del CNN. Comitato di Liberazione Nazionale, giusto per chi non lo fa bene. Però, però, soprattutto a Bologna, a Milano, non qui da noi. Il Manzoni Mario, che è uno dei partigiani di San Bartolomeo che io stimo di più, ha fatto il partigiano a Como. Cos'è successo? L'ha preso qualcuno l'altro e gli è andato un sacco di botte. Mi ha raccontato a sua moglie, Clelia, che è morta per un proprio infante. Un sacco di botte, torturato, eccetera, ma lui non ha parlato di stato così. Poi è riuscito a fuggire, è arrivato da San Bartolomeo, c'è nascosto nella Villa Maliana, e lì praticamente si è stato nascosto finché, quando è avvenuto il mese di aprile, lo hanno chiamato per andare ad assaltare la prefettura di Bevero. E lui è andato. E la sua moglie mi diceva per un sacco di botte, ma lui non ha mai parlato. Lui è sempre stato partigiano, infatti è morto anche giovane, ero da 24 e morto nel 67. Poi un altro partigiano, Carlo Frigeni, che è il nonno dell'attuale cinema di San Bartolomeo, di San Bartolomeo, anche lui ha fatto il partigiano in Liguria. Cioè dopo l'8 settembre è scappato. Beh la resistenza a Genova è una cosa molto famosa e molto piccola. Lui ha fatto il partigiano in Liguria. Salvatore Di Nardo, che era qui medico, travestino medico. Ce l'hai raccontato prima quello. Ecco, sono serenere i partigiani. Poi c'è questo ragazzo, anche questo è una cosa assolutamente inconcepibile. Perché? Perché questo Rottini abitava dove c'è il ponte di Barlino. Ah sì, assolutamente dove c'è. Ecco, lì il suo papà arriva i carri e portava in giro Lulegna. Poi lavorava a Ponte San Pietro dove c'è il campo dell'aviazione per i tedeschi. Per i tedeschi, quelli che pagavano bene. Lui col carro portava la ghiagna, eccetera eccetera. Cos'è successo? Dopo l'8 settembre, lì, nelle sue strade occidentali i cavalli, arrivano una dozzina di questi prigionieri fuggiti dalla Grumellina. Perché lì c'è il campo di concentramento dove tenevano i... Certo. E lì che c'era il campo di concentramento? Certo, c'era lì. E sono scappati perché dopo l'8 settembre... Dopo l'8 settembre... Dopo l'8 settembre... Dopo l'8 settembre sono scappati e sono andati un po' qui. Loro voleva andare in Svizzera, un po' più in tutte le parti. Sono arrivati 12 lì e la mamma e il papà di questo Rottini, li hanno presi nelle stalle e davano un po' di prodaglia, eccetera. Poi... Li hanno salvati in sostanza? Sì, la mia finita. Cos'è successo? Che alcuni hanno fatto la spia. Hanno fatto la spia i cavinieri e i cavinieri erano obbligati, no, ad intervenire. Allora il papà di questo Rottini ha detto la di Svizzera di qui, sempre a nord, eccetera eccetera. Ho fatto vedere un po' le strade, le zone, eccetera eccetera. E questi sono partì, poi non ho saputo di niente. Però lui mi diceva che di notte andava a portare i viveri ai partigiani che erano su una settimana. Di notte, che era un ragazzo che pesa 13 anni. E quindi mi ha ricordato, aveva paura, eccetera eccetera. Però era d'accordo, no, con un padre che lo aspettava una settimana, aveva la sicurezza e portava i viveri. Poi ecco anche gli altri. Un Kripa Giovanni e un Kripo Luigi. Un Kripa Giovanni ha operato a Terno d'Isola. E il Kripo Luigi ha operato ad Alteno. Quindi sono partigiani soprattutto. E ha fatto i partigiani ma non molto qui ad Almeno. Ah. San Bartolomeo. Però anche qui c'era un prete, Don Luigi Terzi, che era curato di Almeno. San Bartolomeo nel 1943. Lui favoriva, aiutavano i partigiani, eccetera eccetera. E quindi, mentre quelli di Almeno erano legati, no, all'inificio. perché era un po' lì l'intelligenza. L'inificio c'era un direttore che era antifascista in quel periodo di anni quando era curato. E solo per chi non è tanto giovane, l'inificio per decenni è stata la prima industria della nostra zona. C'erano giù anche fino a 2000. Per un secolo. C'erano giù fino a 1800. C'erano giù fino a 1800. Per cui era il punto di riferimento economico della zona. Si vede l'accordimento sotto e lì come dicevano lavoravano perfino 2000 ragazze. Allora lì lavorava anche il Gotti Angelo, quello che hanno preso, che hanno torturato e fucilato sopra, vicino a Berbenno, sullo cascino in Como. Lavorava lì. Lavorava lì. Sovvianzata era uno di almeno... Ancora vivente. Ancora vivente. Maria Cefis. Maria Cefis di anni 96. Quindi quelli di San Bartolomeo erano piuttosto slegati. Mentre invece questi di San Salvatore facevano capo all'edificio e al Danza. Siccome abbiamo saputo, ormai ci hai detto, che quelli di San Salvatore erano organizzati. Si. Voglio sapere quali sono, durante questi due anni, diciamo dal 43 al 45, le azioni principali che hanno fatto come associazione, come Fiamme Verdi, come il Nucle di Pagliari. Le Fiamme Verdi nascono il 29 giugno del 44 e Dami fonda le Fiamme Verdi. però ha in campo due galletti. Capelli Battista e quello che a lui piaceva di più, che è l'angelo Gritti. Allora cosa fa? Quindi la formazione viene divisa in due. Polma, dal primo maggio, che è del Capelli Battista e gli dice tu vai su a Zambla, che ci sono i lanci degli americani e ti occupi di ricevere tutti, cioè la cosa che buttano giù gli americani. E poi se vuoi fai anche qualche disarmo. Quindi non sono il primo maggio e sono quasi dentro quasi tutti i nostri partigiani. Mentre l'angelo Gritti, con altri due, il Dami Gritti gli dà la formazione Val Brembo, che io dico l'eroica, perché quella non era addetta a... quella era da battaglia. E lì, per essere molto più semplice, dirò che fecero parecchie azioni. Una fu quella dell'assalto, della formazione del Gritti, cioè della Val Brembo, l'assalto alla caserma di Santo Momoni di Bagna, dove c'era un presidio della milizia, che lo fecero saltare in aria e uccisero otto miliziani e poi scapparono. Poi c'è la famosa faccenda della Villa Masnata, della famosissima, dove, nella cui occasione, noi perdemmo, di almeno perdemmo. Nella primo maggio si chiamava Roncelli, Roncelli fucilato a Petrosino. Giugni, soprannome Giugni. Giugni, sì. Vengono assegnati ad Almeno San Salvatore. Però solamente uno, il secondo, nasce ad Almeno San Salvatore. Però dalle nostre ricerche, no, abitavano ad Almeno San Salvatore. Dove? Ai Cinque Vini. Abbiamo scoperto che è quella cosa lì. Ecco perché settant'anni fa vennero dati ad Almeno San Salvatore. Però loro, uno però era scusato a Rocciucotte. Il terzo, invece, era nato a Bergamo, il più eroico. Dunque erano sei. Allora, uno fucilato, uno morto. Il primo, della primo maggio, durante un disarmo a Ponte San Pietro, no? Vole togliere il fucile a un tedesco e quando lo uccise. Invece a San Bartolomeo, quanti morti si contano nelle file della Resistenza? Ma di morti, morti, durante la Resistenza nessuno. A San Bartolomeo? Hanno operato, come ho detto, in diversi posti, no, eccetera. Però non erano, come questi di Ateno, legati a danni. Sì, sì, sì. Però durante la Resistenza di quelli che ho detto, no, nessuno. Cioè, è morto il Seghezzi, perché l'ha portato... A Dachau. A Dachau, no, nel maggio del 45. Mentre invece il Benigno, curato di Palazzaro, è riuscito a non venire a casa. Allora, c'è da dire questo, però. Sulle azioni che lui ha detto, di quelli di Almenno, diceva che è molto importante l'assalto di Amasnavar, comandato dal Dami. Dami è l'unico... Questo è il primo noventino. Questo è il santo di Amasnavar. Per cui i preti col mitra nel Sud America degli anni Sessanta, hanno avuto degli antesignani. Sì, sì, sì. Gli altri preti, che sono tanti, no, noi probabilmente ne lo noteremo, hanno aiutato, sono parecchi, sia della Valimania, sia quelli che hanno avuto origini in Valimania, che facevano i preti, per esempio, in altre porte. Diciamo che con il tuo linguaggio che hai usato prima, il Dami è un partigiano, gli altri sono patrioti. Bravo, bravo, bravo. Questo qui, Don Luigi Terzi, di San Matteo Colomeo, era un patriota. Il Dami comandava lui... La brigata. La brigata. Questi, a santo di Amasnavar, erano una bontina. Allora, loro credevano, c'erano tre di Almenno, che sono poi quelli che sono morti. I Locatelli, no. Vabbè, con i Locatelli c'è tutta una storia. I Locatelli, vabbè. Vabbè, racconteremo. Allora, perché a santo da questa villa? Avviene nel settembre... Prima di tutto dov'è la villa a Masnada? Spiegelo, magari non dico a santo. Ah, la Masnada è la villa che c'è ancora, quando da Ponte a Bergamo, sulla strada, si arriva, mi pare che si chiamino lì... Curdomo. Sì. Località. Sì, ha le crocette. Bravo, non c'è le crocette. Le crocette... Lì sulla sinistra... La mozza e cugno, sì. Ho capito quale... Dove andando avanti vai al bordo di Bergamo. Bravo, sì. Ho capito. Ecco, lì c'è ancora, si vede... Sotto la casa degli Angeli. Esatto. Sì, sì. Ho capito, ho capito. Allora, lì, eravamo venuti a sapere, lì c'era una guarnizione di tedeschi che lavoravano a Ponte San Pietro. Alla Caproni. Alla Caproni. Lì al campo, no, di aviazione perché lì, come sappiamo, a Brembatte, dove adesso sono solte un sacco di case, c'era il campo di aviazione della... Dalla famosissima Caproni. Cosa? 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 Allora, loro sapevano, no, che lì c'era questa guarnizione e che a un certo orario del mattino partivano quasi tutti e andavano, no, al campo della Caproni. Allora, eravvenuti a sapere che lì dentro c'erano anche due piccoli autocarri. Sapevano che c'erano armi, viveri, coperte, perché siamo a settembre, questi qui passavano l'inverno in montagna. Dove soprattutto? Montiubione. Qui nella valle umana. Qui, che era il Montiubione. Montiubione. Montiubione, sì, che è con di giù. Qui, ecco. C'era il bacino, per esempio. Ecco. Lì e anche sopra. Cioè loro, questi qui del Dami, avevano una base, no? Qui a Montiubione, era il loro marzo. Gli altri del Bacchetta, tre cappelli Battista, sua zambra, sua lariera. Era lì. Era lì. Era lì. Allora, allora interessavano anche le coperte, perché in inverno fa freddo. Corretto. Cibo, armi. Perché i cartigiani non è che le armi rubavano o prendevano quelle che riuscivano a trovare in giro, eccetera, eccetera. Allora fanno questo assalto. Quando partono di notte, arrivano, si nascondono lì, non nell'abite, nel mese di settembre, e poi all'orario uno dentro doveva aprire quando loro sarebbero arrivati. E invece questo non c'era. Allora entrano, immobilizzano le guardie, perché non coppino in cantina, e poi non ci sono i cani. Come facciamo a portare via la roba, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Decidono o andiamo via, oppure portiamo via a spalla. E quindi prendono a spalla armi liberi per quello che riescono e vengono su per, dalla zona lì, no, dalle crocette, vengono su per andare verso Sombreno. Ah, ma provvederete. Ecco, bravo. Il mondo è di potenza. Ecco, per nascondersi lì, perché così siamo andati nel bosco, eccetera, eccetera. Cosa succede? Ecco, i tedeschi vengono a sapere, e i fascisti, partono loro con le camionette, e vengono su, sia da Ponteranica di là, sia di qui, no, verso il, verso Sombreno, quella strada lì che passa, la Madonna delle Castagne, come si chiama? No, la Madonna della Castagna, sì, sì. Quella strada lì che arriva fino a Paladina, hai presente, no? Sì, sì, sì. Vengono su da lì con le camionette, e circondano, il Monte Ubbione, la zona, non ho sbagliato, circondano. Il Monte Brè. Il Monte Brè, cioè lì, il Monte di Sombreno. La zona lì dove c'è il santuario. Allora. Un inciso di libri, forse sbagliano, ma parlano di mille tra fascisti e tedeschi. Contro 24. Infatti circondano, no, no, circondano tutto il Monte di Sombreno, dove c'è il santuario. Uno lo mandano a Brontino, perché a strada c'era sull'Angelo Gritti con altri che aspettavano il camion per portare tutte le anni sul Monte di Sombreno. Esatto. Allora, vanno a pisare questi. Però uno viene preso, mi pare i roncelli, no? Vengono presi due fratelli di Paladino, non mi ricordo più il nome. E li fucilano lì sul Monte. Hai presente? L'avrei visto dove c'è quel monumento ai caduti? Ecco. Lì ammazzano questi tre. Un altro fa finta di essere lì tra gli operai del Gress, no? Perché ci va già loro, no, il Gress, eccetera. Ma lo riconoscono. Ed è il Locatelli. Allora, questo Locatelli, lui ha detto, sono tre persone che qui almeno non sono totalmente dimenticati. Sono tre fratelli. Eroici. Eroici. Morti tutti e tre. Questo qui era un partigiano, no, del Dali, che aveva combattuto sia a Sant'Omobono, la caserma, e sia qui a Solbreno, va bene, che aveva partecipato alla Villa Mastara. Però non lo uccidono perché vengono a sapere che è fratello di un altro Locatelli che lavorava con i tedeschi, però teneva in formazione quei partigiani. No, però, voglio dire questo, che questi tre Locatelli sono completamente dimenticati qui ad Almeno San Salvatore. Anche se, come diceva lui, i nomi sono lì tutti e tre nel cimitero di San Salvatore. Quindi bisognerete... In San Salvatore c'è sulla lapide, c'è sulla colonna. Prima di entrare nel cimitero, guarda qui, i fratelli Locatelli, sulla destra. Nella, tra i personaggi della resistenza almenese, spicca Annapatica, qui è dedicata all'attuale sezione. Perché Annapapis ha una sezione Ampiti almeno? Qual è stato il suo valore nella resistenza? Dunque, Annapapis non aveva né Mitra, non apparteneva a niente, no? E' stata, come diceva lui, i partigiani si dividono in... Partigiani... Partigiani, quelli che sono appartenenti a una sezione almeno per sei mesi. I patrioti, quelli che hanno partecipato almeno tre mesi. E poi i benemeriti. Benemeriti, questa è una benemerita. Però è una partigiana, tutto. Questa qui è di almeno San Salvatore. Lei è impiegata nel Comune di Villa del Medio. Come segretaria. E come segretaria cosa fa? Quando quelli della Brumellina, ecco per quello interrotto, quando quelli della Brumellina scappano, vengono via di là, lei, grazie, non solo da sola, ma con il sindaco, il vice sindaco e un altro che lavorava lì in Comune, riescono a smaltire, come adesso gli immigrati, no? 50 a te, 50, 50. Ne mandano 50 da almeno a San Salvatore, 50 a Barzani, 50. Per esempio i maestroni, i maestroni che gli esò lì sotto c'erano dei greci. Perché scappavano che erano ingresi e soprattutto greci dalla Brumellina. Lei abitava nel San Salvatore, il papi sta su San Bernardino. Ne aveva 4 o 5 in casa. E poi, un'amica ne aveva 4 o 5, per lui li aveva messi a posto. Naturalmente li ha tenuti qui per diversi mesi. Diversi mesi non sono mai stati presi. E lei non... Poi, la seconda cosa che fa, quella molto più gestiosa, è quando è finita la storia di quelli della Brumellina, non è partigiana. Lei ha un posto privilegiato. Lei sa tutto quello che succede. Tanto è vero che i tedeschi avevano bisogno di una segretaria. Lei si è affetta. Quattava la sera, due parole. Facceva il doppio gioco, in sostanza. Treplo gioco, il quadro gioco. No, lei non sapeva niente e lo sapeva che aveva usato. Fatto fino alla fine. Se non è una partigiana qua da lì. Cioè, senza vittima, senza niente. E notare una cosa, non ho mai detto niente a nessuno. L'hanno scoperto gli altri. Perché quelli lì sono erogli. Lui parlava anche di queste Brumellina che erano nelle grotte di Castra. Ah, anche quelli. Da Ciorgio e da Montiuvione c'erano anche le grotte di Castra. Ex minieri di Castra. Ex minieri di Castra. E lì, lei e l'angelo Gritti di Villa d'Almè, perché gli angeli Gritti sono due. Uno di Villa e uno di Almen. Con quello di Almen favoriva, stavano i viveri. Questi Brumellini che erano nelle grotte di Castra. Una cosa, una curiosità per le ultime due domande. Io so che in molti casi, le formazioni partigiane, venivano infiltrate da militari alleati. Succedeva anche qua, è successo anche qua a Bergamo. E altra cosa. Gli alleati, le bande partigiane in Bergamasca, le rifornivano anche con armi. Altro che, quando Almen arrivavano, all'arriva ci fu anche un grosso incidente che cade in aereo, eccetera, così. E mandavano coperte, ma soprattutto armi. Armi. Armi, eh. Loro avevano bisogno di... Cioè non c'erano gli alleati per fare quelle cose lì. Aspetta, con le armi, un altro lancio degli inglesi è stato fatto in Bartaleggio. Ah. Sopra vedete. Sopra vedete. A volarmi. A volarmi. Sopra vedete la partigiane. Dunque lì, Almen... Sopra hanno fatto un lancio lì, e tirano su questi dalla Val Brembo. Dalla Val Brembo lì, anche lì bisognerebbe parlare per mezz'ora. Perché è da lì che dopo nascono, è da lì che Dati decide di fondare le Fiamme Neri. non sarebbe troppo difficile la idea. La guerra finisce... Sappiamo che storicamente molte formazioni di partigiane alla fine della guerra si lasciano andare a vendette. Sicuramente. Faccio un esempio. Il fratello di Pierpaolo Pasolini faceva parte di una brigata partigiana cattolica venne attaccato e ucciso da una brigata partigiana titina cioè Jugoslava. In Emilia Romagna alcuni sacerdoti, Don Pessina mi ricordo, vengono uccise da formazioni partigiane comuniste. Il famoso triangolo della morte. Esatto. Le formazioni partigiane dei due Almenno alla fine della guerra si macchiano anche loro di comportamenti violenti? Assolutamente no. Quando dopo la guerra decidono tutti di lasciare le armi, hanno consegnato tutte le armi. Però... Sì... Anche al Almenno sono state fatte di quelle cose ma la maggioranza... Dopo lì bisogna vedere chi la fa. Perché tu... cioè tu... Guarda che... come succede... come dicevano... il 25 luglio in Italia erano tutti fascisti. Il 26 erano tutti antifascisti. Lo stesso... quando hanno fatto la spirata il 27 di... il 27 aprile del 45... il 45 ha detto no. No? Bergamo... non riusciva ad ospitare tutti i partigiani perché negli ultimi mesi si sono ingrossati ecco perché hanno fatto le tre categorie. cioè viene a merito chi che la miglia parte ci fa. oppure... ma la maggior parte anche qui ad Almenno hanno cambiato faccia e quelli che hanno spinto... quelli che hanno operato a zero le ragazze il 27... qui... le ragazze che andavano assieme dai fascisti no? con i tedeschi ma anche con i fascisti che hanno operato a zero le hanno mandati in giro eccetera le hanno fitturate il... 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 il veterinario che hanno mandato ehm... a piedi nudi fino in roncola con dietro il suo motorone sgasando eccetera quelli che dicevi tu erano partigiani o... finti partigiani la domanda è questa io non li vedo i miei... io dico i miei partigiani fare quelle cose... c'è una cosa che io voglio dire io sono nato nel 48 però negli anni 50 ehm... anche qui ad Almenno i partigiani non erano ben visti e si e si che i partigiani erano quelli delle fiamme verdi diramia quelli conquisti però d'altronde venivano anche questi di Almenno equiparati ai partigiani conquisti quando lei mi dice ehm... entra anche lì cioè noi siamo noi nell'associazione partigiani ma io di partigiano non ho niente perchè ho tutta un'altra storia lui che c'è all'animo partigiano quando lui mi dice mi dice mi scrive compagno compagno ma è compagno compagno è un... come si chiama? è un linguaggio della presidenza giusto? l'importante che i partiti cioè se c'è un partito che sostiene i partigiani ben vengano perchè lo scopo del nostro e dei partigiani è quello di essere una sentinella delle libertà che senso ha? adesso questa la chiedo a tutti e due a 45 25 siamo a 80 anni quasi dalla fine della seconda guerra mondiale che senso ha? dopo 80 anni portare ancora i valori della resistenza prima che voi mi scordiate una cosa la dico io ricordiamoci che la nostra legge fondamentale in Italia è nata dalla resistenza la legge che regola la nostra vita viene dalla resistenza questo fino a che la costituzione non verrà cambiata non dobbiamo scordarcelo che senso ha oggi portare i valori di 80 anni fa? l'ho già detto prima dunque l'anti deve essere una barriera contro il fascismo ma non solo il fascismo del duce che ormai è morto anche se ci sono duemila sfigati che vanno in giro alala quando hanno festeggiato il 28 ottobre quello lì è morto di fascismo ma è l'altro di fascismo il fascismo è quello quando una società opprime il più vevole una società che respinge i migranti che hanno bisogno di venire qui una società ingiusta è quello lo scopo dei partigiani di oggi io ti rispondo con la penultima domanda via dal meno a San Bartolomeo non ho fatto niente di di eclatante di eclatante purtroppo è stato ucciso ma che sbaglio un partigiano che era un giovane che tornava da Cerana con la mamma era io lì al 45 ma adesso alla fine non so come hanno fatto dei partigiani lì gli hanno sparato la nuova però non sapevano neanche chi era che fosse la nuova non ero un partigiano ero un studente di Cerana che veniva a casa era il fratello della maestra il fratello del marito della maestra il suo maestro era il fratello di questi due fratelli del marito poi quello è legato al Benza come ha detto lui per i fascisti qui li ha fatti i fascisti lì di San Bartolomeo però ripeto erano fascisti che non dicevano il popolo buono sapevano però non lo denunciamo perché sennò sapevano che i fascisti e i tedeschi se lo prendevano dai genitori lo denunciavano dalla casa eccetera l'unica cosa li ha fatti andare a Chiedi non diceva lui insomma la rocca quindi lui insomma la rocca un fatto che sono io grave è successo qui nella piazza non ho fatto il nome ero un fascista e finita la guerra mi ricordo io che ero un ragazzino ancora a botte lì dove c'era la posteria del ceschino non so se ricordi posteria di sacco di sacco e lì fuori mi ricordo che appunto uno dei fascisti l'ha preso a botte così però non è tanto non è ucciso nel sangue infatti per me era stato molto impressionante quindi per dire come dicevano come dicevo all'inizio parlando con Gotti Battista che è ancora vivo che ha ormai 102 102 101 li ha fatti alla fine di luglio 102 102 a luglio e lui ha detto che abbiamo fatto cittimoni perché non denunciavano sapevano che c'era un partitino però non denunciavano per tenere le famiglie quindi tranne queste cose anche San Bartolomeo non è stato fatto e qui a me non c'è mai stato quel grosso ligore che c'era per esempio nella pianura padana dove le lotte tra contadini in Emilia Emilia e soprattutto in Emilia tra convisti tra... ma diciamo anche che in Emilia prima che il fascismo andasse al potere c'erano stati atti di violenza che in bergamasca non c'erano visti gli fossati alle camere del lavoro e roba del genere diciamo che lì la vendetta era diciamo quasi comprensibile però Ermano tu non ti sei espresso sull'ultima domanda perché a 80 anni di distanza parlare ancora di questo cioè perché ieri 9 novembre hanno fatto la giornata della libertà perché il 9 novembre hanno battuto il muro di Berlino però per noi il muro di Berlino conta poco o niente, conta per i ugeresi, i tedeschi, la Germania dell'Est eccetera per Berlino. A noi la data che conta è il 25 di scoprire perché perché da questa data da questa lotta di questi eroi sappiamo che migliaia di parisi anni sono morti in Italia fucilati eccetera eccetera i fratelli, i piro fratelli che parlavamo ne hanno tuturati in una maniera bestiale. L'ultimo in una maniera... L'ultimo. Io quando l'ho scritto volevo cambiarlo, lo portava d'altronde è così, è così. L'ha messo... Tra l'altro io avevo una testimonianza di suo cognato. L'ha messo nel 45, nel 45, su una tavola di marmo, fuori alla perro, mesi di gennaio, gli buttavano su l'acqua gelata, poi l'hanno bello con i pollici, un sacco di botte che gli erano come grande. Poi l'ha portato a Sant'Agata, una botte che ora, e alla fine l'ha buttato giù dal ponte di... L'Albino l'hanno buttato giù dal ponte di Cavenago. L'ha buttato giù di... Quindi è gente che ha sofferto, ma molto, sono morti proprio, per portare la libertà, la democracia. Cioè uno dice, uno dice, ma la guerra arriva a quei punti lì quando tu senti parlare nell'Ucraina oggi. Ma l'uomo, così lo dico. Cioè... Eppure la storia ci dice che lo facevano anche... Cioè, no? Le crudeltà della guerra non le scopriamo certo oggi. Certo. Perché la guerra è sempre stata crudente. Non esistono le guerre combattute con i pioni. No, no. Con i mergas, con i disini. Cioè, però, bisogna dire questo, cioè, fa capire l'uomo ancora umano. Cioè, su queste cose, dico l'uomo, noi siamo peggio degli animali. Gli animali ne ammazza uno o due per mangiare o per il territorio. Invece noi, nell'ultima guerra, a suo mondo, di 50 milioni di persone in tutto il mondo. 20 milioni solo dei russi. Gli italiani 650 mila, più milioni di russi. Cioè, sono atrocità che gli animali non fanno. C'era il libro che sta facendo lui, io, adesso con un altro giovane che è Mattia Cefis. Lo conosci. Inoltre, anche i giovani. E quindi, lì si conoscerà molto più precisamente, molto più documentato, eccetera. Quello che noi abbiamo racconto, abbiamo detto così, in maniera confidenziale. Io voglio ringraziare Romano ed Ermanno per la loro partecipazione. Vi ringrazio davvero di cuore. Perché qualcuno non c'è un argomento di cui si sta perdendo la memoria. Sinceramente, perché, io quando ero piccolino, già avevo dieci anni, io mi ricordo che il 25 aprile, ad almeno, era molto sentito. Adesso, adesso si, quasi non esiste, non esiste. Adesso si è un po' per tonia. Va a conoscere le cose, dicono che la conoscenza renda liberi. Ma non sapere le cose è molto peggio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.